Quindi Dimple oggi va a vedere come preparare una pizza di D.I. way in home Quindi bisogna solo 500 dambi di flore Quindi nel medio di Debbie Dimple pensa che la ricetta potrei pulire un po' con la nuova scuba Quindi aggiungo solo un po' di musica E poi... E poi danno con la nuova scuba Allora... Quindi ora Debbie è pronti Sì? Sì? Sì Questo non è necessario Ma sto usando un'alternativa di baking powder Ah, sta mettendo un po' di baking powder E... Avevo un conore di Mecworth Ti spettiamo di mecworth Scriverte i mecworth ho preparato due con mecworth Tutti, per mecworth Poi metto con tre con pelle di dolore quindi aggiungi... è un'acqua acqua? è un'acqua acqua acqua quindi mixi, foldi... quanto minuto? fino a che si combinano insieme è ancora San Valentino quindi questa pizza è più musica come funziona? è una pizza jazzy quindi aggiungi un po' di cuore mixi con la mano questa è la nuova serie del canale perchè abbiamo la magica preparare la città dipende dalla musica quindi questa è solo pizza quindi questa mixi non ha la città quindi non bisogna restare solo 10 minuti e puoi fare la pizza in solo 10 minuti la stagione wow questa è la forma di art wow ragazzi è molto preparata quasi come si prende dalla frizzera quindi mi consiglio di fare questa ricetta magari lei scriverà la descrizione la pizza è l'ice di tigre è una pizza tigre è una pizza tigre quindi da la pizza passiamo al buccior in questo si chiamano questo? il pot il pot per pizza il potere il potere il potere wow ragazzi è molto professionale buonissimo 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 guardate ragazzi è molto buonissimo è molto buonissimo è molto buonissimo la pizza è molto buonissimo 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 dove ho messo qui? qui? ok qui abbiamo il quadro di cat il quadro di cat non dimenticate di cercare tutto il fuoco e anche il canale controlla se è cerrato se è cerrato quindi qui c'è qualcosa molto fresco quindi apriamo l'avvento 230 gradi perché Comunque con la mia isola è la migliore collaborazione nel canale sempre perché collaboro con le persone ma con le dimple è la migliore collaborazione sempre quindi ho messo un po' il filipino questo è buono per la pizza i tappi i tappi è molto buono per la pizza possiamo vedere la pizze è molto buona è un po' è un po' un po' un pezzetto un po' un po' poi ho la luce oh ragazzi mamma mia che fulg è molto fulg è il momento un po' 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 30 quindi siamo romantici in casa come un piccolo ristorante quindi stiamo aspettando la pizza sì è quasi il momento un po' un po' un po' un po' ci un po' su un po' la pizza è ішa ueno Ciao ragazzi! Perfetto! Quindi è ora di farlo! Molto bello! Grazie mille per aver guardato! Buongiorno! Buongiorno! Quindi cosa vuoi dire? Quindi... E' la persona che fa lo fare E lui è la persona che mangia lo fare Ah, sì! È un tipo di restaurant E' la mia prima cliente E' la mia prima cliente E' la mia prima cliente See you in la prossima video! Ciao! Ciao! Ciao!